Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico, io sono Issam e oggi volevo invitarvi al Model Expo di Verona il 22 di febbraio, che è una domenica, dove sarò presente e parteciperò a questi workshop che si terranno tra il padiglione 6 e il padiglione 7 nella galleria al primo piano. Durante questi workshop, che il primo sarà su come vola un elicottero, teoria e pratica, dalle ore 11.30 alle ore 13, parlerò degli elicotteri, farò provare anche i comandi dell'elicottero a chiunque di voi che lo voglia fare, di questo elicottero T-Rex 800 e sarò disponibile a rispondere a tutte le vostre domande e dubbi su tutto quello che riguarda gli elicotteri. Il secondo workshop invece si terrà dalle 14.30 alle 16 e lì parleremo delle batterie ai polimeri di litio, tutto sulle batterie ai polimeri di litio, come si ricaricano, tutto eccetera, potete fare tutte le domande che volete. Lo scopo del workshop anche è potervi vedere dal vivo, perché ci siamo iscritti, abbiamo parlato insieme, voi mi avete visto, anche io vorrei vedervi, mi piacerebbe vedervi, parlarvi. Quindi vi aspetto numerosi, ci vediamo a Verona. Ciao! Ciao!